Bambino, abbiamo un'altra missione da compiere. La nostra missione si chiama Libero di muovermi! Ora, now, in questo momento, in questo momento, adesso... Mammo! Non possiamo dirci, ma ti rendi conto quanto è importante la libertà di movimento? E deve essere per tutti! Quindi, ascoltami bene, è facile! Sì, ascivoli dappertutto! Nei barchi, sugli autobus, sui marciapiedi, nei palazzi, le vedi di muoverci come razzi! No, a scale, scalini, faticosi per tutti! Dai, nonni, ai bambini! No! No e no! Ho detto no! Sì, alla spazzatura, non ho buttata nel suo contenitore, non ho buttata nel strada, mi spezzi il cuore! Sì, alla macchina, moto, bici, parcheggiata al posto, così siamo felici! No, a barriere di plastico, di cemento, ma sì, alla vita, e alla libertà di movimento! Sì, alla libertà di movimento! Sì, alla libertà di movimento! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.